Io volevo parlarvi un po' della struttura dell'Andrangheta per capire perché siamo arrivati ad oggi, perché oggi è la mafia più ricca e quindi più aggressiva che ci sia nel mondo occidentale. Intanto noi abbiamo tracce dal punto di vista storico, giudiziario, ripeto andrò velocissimamente, quindi gli esperti di droga, di Andrangheta, di narcotraffico presenti mi perdoneranno se salterò pezzi interi della storia dell'Andrangheta. Noi abbiamo prova dell'esistenza delle mafie, della nascita delle mafie dal punto di vista documentale con l'Unità d'Italia. Nel 2011 io, dire il vero, mi sarei aspettato qualcosa in più dagli storici, da quelli che scrivono libri che poi vengono adottati nelle scuole, utilizzate nelle scuole. Mi sarei aspettato una rivisitazione, ad esempio come è stato per le foibe, mi sarei aspettato una rivisitazione della storia dell'Unità d'Italia. Perché l'Unità d'Italia è stata scritta da storici soprattutto del nord. Sì, qualcuno dice sì, ma c'è Rosario Villari, professore universitario a Roma, alla Sapienza. Sì, Rosario Villari è nato nella pianigietà, ormai è vissuto, si è cresciuto a Roma. Ora, perché dico questo? Perché se voi ci pensate, Garibaldi si è fatto una passeggiata salendo l'Italia fino ad arrivare a Teadno. Non mi pare che c'è stato un grande scontro, conflitti. I mille non erano solo garibaldini partiti, erano mille, ma durante il percorso se ne sono aggiunti tanti. Soggetti che poi identificheremo come picciotti. Spesso per comodità e per certa miopia storica è stata confusa la picciotteria con il brigantaggio. Oggi ancora degli storici, dei professori, di gente che formalmente insegna nelle scuole, omologano il brigantaggio alla picciotteria, che sono due cose completamente diverse. Perché i meridionali hanno questa eritrosia? Perché considerano lo Stato un nemico da fregare? Perché il popolo meridionale non si è mai sentito legato allo Stato centrale. L'Unità d'Italia non è stata discussa, è stata imposta. E' stata imposta con la forza e con l'inganno. Qualcuno di voi ha sentito parlare naturalmente delle fosse datine. Ogni tedesco ucciso, dieci romani uccisi. Ebbene, in nome dell'Unità d'Italia, ogni piemontese venivano uccisi mille meridionali. Ogni piemontese ucciso durante l'Unità d'Italia. I soldi che i Borboni avevano rubato ai poveri, nel regno delle due Sicilie, sono stati poi rubati dai piemontesi, portati a Torino e con quei soldi sono stati pagati i debiti con le banche francesi. In nome dell'Unità d'Italia era stata promessa alla classe contadina, era stata promessa la riforma agraria. Il latifondo nell'Italia meridionale voleva dire che una stessa famiglia aveva proprietà che si estendevano da una parte all'altra del mare, due mari, toccavano due mari le proprietà. E all'interno di questi latifondi vi era la classe contadina che nasceva, viveva, lavorava, si moltiplicava, moriva. Una classe contadina che partiva da casa con la zappa all'aurora e tornava al tramonto. Tra la classe contadina e il latifondista vi era la figura del massaro. Il massaro sarebbe oggi potremmo definire un amministratore delegato di una fabbrica. Era colui il quale organizzava, amministrava il latifondo. In questa pressione, frizione del latifondista e della classe contadina che soffriva, il massaro si comportava come un termoregolatore. Cioè era colui il quale pressava, spingeva sulla classe contadina, al contempo attraverso dei picciotti, degli sgherani, dei soggetti che facevano scorribbando nel latifondo, organizzavano il danno in modo tale che il latifondista si rivolgesse al massaro e il massaro poi, ad esempio, i picciotti rubavano quattro mucche, interveniva il massaro nella mediazione, una mucca se la tenevano i picciotti, tre mucche le restituivano. E in questo modo ci guadagnavano tutti, erano contenti tutti. Stessa cosa per quanto riguarda la guardiania di Aranceti e Uliveti. Noi sentiamo, ma già alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, già si incominciava a percepire il pericolo della picciotteria. Ancora non parliamo di indrangheta. Il termine indrangheta dal punto di vista documentale non riusciamo a sentirlo o a leggerlo prima degli anni 40. Prima degli anni 40. Lo scritto più famoso sull'indrangheta, per la prima volta il termine indrangheta, è stato utilizzato da Corrado Alvaro, il più famoso scrittore calabrese, sul Corriere della Sera. Per la prima volta è stato questo termine indrangheta. E lui conosceva bene l'indrangheta perché suo padre era indranghetista. Suo padre partecipava alle riunioni indrangheta sin da quando lui era bambino. Ma naturalmente già voi pensate che le elezioni comunali già all'inizio del Novecento nel comune di Reggio sono state sciolte per mafia. Sono state sciolti per, allora ancora il termine mafia non esistava, per picciotteria. La picciotteria era l'organizzazione rudimentale, quello che poi vedremo col passare dei decenni, poi chiameremo indrangheta. Naturalmente già nel 1905, 1907, 1908 esistevano i maxiprocessi. I maxiprocessi non sono un'invenzione dell'attuale codice di procedura penale. Ma già nell'inizio del Novecento c'erano processi nei confronti di 200 e 220 imputati al Tribunale di Reggio Calabria, al Tribunale di Nicastro o all'attuale Lamezia Terme o al Tribunale di Catanzaro. Ora vediamo velocemente com'è strutturata l'indrangheta. Cos'è un locale di indrangheta? È l'estensione del territorio sul quale l'organizzazione esercita il suo potere. Vi è il capo locale che è l'uomo del monte, ha potere di vita o di morte su tutti, è colui il quale decide il respiro, il battito cardiaco della popolazione sulla quale esercita il suo potere. Poi vi è il contabile che è il commercialista, è il ministro delle finanze, è colui il quale controlla la cassa detta bacinella e distribuisce le ricchezze. Serve a pagare gli avvocati, a manteneri detenuti nelle carceri fino a quando il processo non è definitivo, e le famiglie e i familiari del detenuto. Il crimine è il ministro della guerra, è colui il quale organizza le azioni di fuoco, colui il quale organizza le guerre quando ci sono due blocchi di famiglie contrapposte tra di loro. Ma vediamo quali sono, poi vi è un'altra figura importante che è il picciotto di giornata. Cos'è il picciotto di giornata? È lo scemo del villaggio. Quello che voi vedete girare dalla mattina alla sera con la macchina senza meta, in realtà è la girghia di trasmissione tra il capo locale e il resto del mondo. Chiunque vuole parlare col capo locale deve passare attraverso il picciotto di giornata. naturalmente quello che vi ho detto e vi dirò è il risultato di indagini, di sentenze ormai definitive, di dichiarazioni di collaborazione di giustizia, di intercettazione telefonica ed ambientale. Quindi sembrano favole, ma poi vedrete qual è l'importanza e perché l'andrangheta è così efficiente oggi e dura. Vediamo quali sono le doti. Nell'andrangheta non si può parlare di gradi, perché il grado è un termine che ricorda le forze dell'ordine. Tutto ciò che ricorda le forze dell'ordine naturalmente è un linguaggio che l'andrangheta non utilizzerà. Allora abbiamo i contrasti. Chi sono i contrasti? I contrasti siamo tutti noi, cioè quelli che non abbiamo nulla a che vedere con l'andrangheta. Il contrasto onorato invece è un fan, è un soggetto che aspira ad entrare a far parte dell'andrangheta. Sarebbe, non so se voi avete fatto già penale, un 110-416 bis, un soggetto esterno, ma ancora non affiliato all'andrangheta. Da contrasto onorato come si rientra nell'andrangheta? Perché essere contrasto onorato non vuol dire far parte dell'andrangheta ancora. Il contrasto onorato è un soggetto che viene studiato da un altro andranghetista, da un altro affiliato per un anno o due anni, per capire se questo soggetto è una persona ardita, se è capace, se ha le qualità, lo spessore per essere un criminale. E a seconda delle sue attitudini poi sarà scelto per fare il killer, per fare il corriere di droga o per fare l'usuraio, eccetera, eccetera. O se, ad esempio, sei un architetto, un geometra, verrà messo nel campo delle edilizie, nel campo degli appalti. Il contrasto onorato, quindi quando è maturo, quando è pronto, viene portato al cospetto del capo locale. Ci sono intanto due tipi di affiliazione, l'affiliazione semplice e l'affiliazione solene. L'affiliazione semplice avviene all'interno del carcere, ad esempio. L'affiliazione semplice avviene, ad esempio, nel carcere. Spesso, durante le feste a Natale, Pasqua, Comandante, oggi è festa, è festa per tutti, c'è un paesano sopra, lo potete far scendere, che stiamo assieme, hanno portato da casa il mangiare, ne mangiamo assieme stasera, eccetera. Nell'affiliazione semplice, se c'è il capo locale all'interno del carcere, sarà presente il capo locale, altrimenti al suo posto si mette un fazzoletto di seta con un nodo su una sedia. Tutti i presenti staranno con le braccia concerte, tranne il capo locale, che può avere le mani libere, e il picciotto di giornata, che è il colui il quale perquisirà tutti i presenti per vedere che addosso non abbiano armi, pistole, coltelli, eccetera. Questo avviene anche se l'affiliazione avviene al di fuori dal carcere. Il giuramento avviene con, si accende una candela, e l'immagine di San Michele Arcangelo, che è il santo protettore dell'Andrangheta, ma è anche della Polizia di Stato. Io ogni tanto li prendo in giro e dico vorrei sapere se è stata prima la Polizia di Stato o l'Andrangheta a scegliersi come santo San Michele Arcangelo. Quindi c'è la candela che brucia e con un ago si punge il dito dell'affiliato, si fa cadere il sangue su questa immagine di San Michele Arcangelo e il capo locale chiede, o il più alto in grado tra i presenti, chiede al contrasto onorato, all'affiliando, cosa vuole. Lui dice che vuole, e c'è un dialogo che dura oltre 20 minuti, che si chiama Baccaglio, è un linguaggio ammascolo tra il capo locale, o il più alto in grado presente, e il contrasto onorato. Nel corso di questo scioglilingua, possiamo dire, cosa si dice? Si dicono le cose fondamentali e importanti. Cioè da questo momento esisterà solo l'Andrangheta, se sarà necessario tu dovrai uccidere tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. È importante anche la presenza del garante, cioè il soggetto affiliato che assolutamente deve avere un grado alto, che porta, dice, e garantisce per lui, certe volte garantisce con la vita, perché se il soggetto, se l'affiliando affiliato, dovesse poi diventare, ad esempio, un collaboratore di giustizia, il soggetto che lo ha portato in quel locale rischia di essere ucciso, perché ha sbagliato valutazione nel giovane, ha detto tu non sei idoneo a capire se una persona ha l'attitudine criminale o meno. Fatto questo giuramento diventa picciotto liscio, poi vi è il picciotto di sangue e il picciotto di fibbia. Poi vi è un'altra dote che è il camorrista e poi lo sgarrista. Con lo sgarro sempre ogni volta c'è questa affiliazione che si chiama dote o fiore. Ogni volta che si passa, noi diciamo grado per comodità per capirci, ma ogni volta che si ha una dote superiore, questo è il termine tecnico, una dote superiore c'è un nuovo rito e il santo è diverso. Non è più San Michele Arcangelo, ma c'è l'Immacolata, Santa Veneranda. Questo per quanto riguarda la società minore, che si ferma allo sgarro, cioè fino a metà degli anni 70 queste erano le figure all'interno dell'Andrangheta. A metà degli anni 70 succede una grande rivoluzione all'interno dell'Andrangheta, cioè gli allora 35 anni, 40 anni, dicono ai patriarchi dell'Andrangheta come Antoni Macri di Siderno, Don Mico Tripodo di San Batello di Reggio Calabria, o i piromalli di Gioia Tauro, dicono a noi sta stretta questa Andrangheta che sinora vive di trasporto di inerti, nolo a freddo, guardianie, abbigeato. Qui stanno arrivando in Calabria miliardi, ragionavamo in lire, miliardi, deve costruire il quinto c'è un sederogico, il porto di Gioia Tauro, la liquichimica di Saline, la Ionio Tirreno e noi che facciamo? Stiamo ancora ad accontentarci qui della mazzetta del 4%, noi dobbiamo contare di più e quindi cosa fanno? Questi grandi patriarchi, naturalmente sto sintetizzando molto, questo passaggio tra questa nuova apertura dalla società minore alla società maggiore è costata 800 morti. Ad esempio Antonio Macri è stato ucciso a Siderno con il suo braccio destro commesso, commesso è rimasto gravamente ferito, mentre giocava a bocce alla perivete di Siderno, mentre Dommico Tripodo è stato ucciso nell'infermeria del carcere di Poggio Reale da due uomini assoldati da Cutolo, non da due cutoliani, è errato perché dopo questo omicidio che fa, che ordina Cutolo, perché Cutolo nella sostanza aveva molti soldi, non era un camorrista. Nel carcere i soldi sono fondamentali, importati, chi ha soldi comanda nel carcere. Riesce a solda due killer, fa uccidere questi, questo ferisce gravemente, poi lui, il Dommico Tripodo riesce a chiudere la cella, questi due rimangono dentro e quindi poi si scopre da chi erano stati mandati. Nella sostanza, in cambio, Cutolo cosa ha avuto? Ha avuto le regole dell'Andrangheta per costituire la nuova camorra organizzata in campagna, mentre i bellocco della Piana di Giovetauro hanno dato poi le regole nel carcere di Trani, in Puglia, per costituire la Sagra Coronelita, che si contrapponeva rispetto alle altre organizzazioni, che erano in fase di sviluppo anche nella Puglia, soprattutto nella provincia di Lecce. Quindi a metà degli anni 70 uccidono questi grandi patriarchi e vincono i giovani, i 35 anni, i 40 anni. E cosa creano? Creano la Santa. La Santa è una nuova figura, è la prima dote della società maggiore. Cos'è la Santa? È lo spartiacque tra la vecchia e la nuova Andrangheta. Cosa vuol dire? Vuol dire che un santista, all'inizio in ogni locale di Andrangheta c'era un santista. Il santista poteva fare due cose importanti che erano precluse a chi era picciotto, camorrista o sgarrista. Di fare il delatore. Sembra una bestemmia, stiamo parlando di Andrangheta, di mafia, di omertà. Invece era possibile che un santista, un santista poteva fare la spia. Facciamo un esempio. Mettiamo il caso in cui su questa via ci sono tanti danneggiamenti ai negozi perché ci sono 3-4 ragazzi, 4 picciotti con la testa calda che non vogliono ascoltare. Allora ci sono due possibilità per il capolocale. O farli uccidere, e si fa molto rumore, oppure si danno in pasto alle forze dell'ordine. Come? Attraverso il santista che può anche fare l'informatore, perché ogni locale di Andrangheta ha un informatore ufficiale che è autorizzato a parlare con le forze dell'ordine. Il delatore cosa fa? Dice, facciamo un esempio, si spara in quella via, si bruciano macchine, c'è una serie di attentati estorsivi. Incominciano a parlare i giornali, l'opinione pubblica incomincia a mormorare. I carabinieri, le forze dell'ordine cosa fanno? Vanno nelle case dei capi mafia, degli Andrangheta, e gli fanno una perquisizione a notte, una notte sì o una notte no. Cioè, noi non dormiamo, voi non dormite pure. Il comandante, il capo Andrangheta, capisce che così non si può andare avanti. E quindi ordina al delatore, all'informatore, di dare il tiro d'Arianna. Per arrivare, dice il comandante, mi pare che hai visto questa macchina, ho visto questa macchina, ho visto questa cosa. Vedete, seguite questa macchina, queste cose forse riuscite a... Allora, questo perché? Con questo tipo di operazione ci guadagnano tutti. Allora, i giornalisti scrivono prima, durante e dopo. Le forze dell'ordine risolvono il problema perché da Roma, dal centro, dalla periferia, chiamano sempre, e dice, ma quando è che finiscono queste cose? L'Andrangheta ritiene di essere in credito poi col comandante, la polizia giudiziaria e la magistratura fanno la brillante operazione, i giornalisti scrivono ancora e siamo tutti contenti. E abbiamo risolto il problema. La seconda cosa che può fare un santista, e cosa molto importante, è quella di entrare a far parte della massone deviata. Cosa vuol dire? Entrare a far parte della massone deviata, quindi avere la doppia affiliazione, l'Andrangheta massone deviata, vuol dire avere a che fare con i quadri della pubblica amministrazione, vuol dire avere a che fare con medici, ingegneri, avvocati, con architetti, vuol dire avere a che fare anche con degli incappucciati, incappucciati, perché nella loggia massonica di Viate, ci hanno detto alcuni collaboratori di giustizia, che ci sono tre persone incappucciate che partecipano alla riunione massonica e sono conosciuti, e sono all'orecchio del Gran Maestro, vuol dire essere conosciuti solo dal Gran Maestro. E è stato detto che in passato anche alcuni magistrati erano tra gli incappucciati di questa logica. Quindi voi capite il grande salto di qualità dell'Andrangheta con la creazione della Santa. Quindi non stare più ad accontentarsi la mazzetta del 4%, ma entrare nella stanza dei bottoni e discutere se l'opera si deve costruire o meno e chi la deve costruire. Questo vuol dire gestire la cosa pubblica. Dopo la Santa è stata costruita, e da quel momento con la Santa e le doti superiori non ci sono più le figure religiose, non ci sono più i Santi come soggetti di riferimento, ma Mazzini, Garibaldi, Cavour, notoriamente grandi massoni, che erano le figure che hanno ispirato la Santa, poi il Vangelo, il Quartino, il Trequartino, il Medaglione. Sono sempre doti, immaginate un cono, cerchi concentrici, dove sempre più c'è l'elite dell'Andrangheta. Naturalmente dalla Santa in su non si hanno più compiti esecutivi, ma naturalmente compiti di concetto, di strategia. Abbiamo visto cos'è un locale. Naturalmente il capo locale, il crimine e il contabile formano la copiata. Cos'è la copiata? Il DNA di ogni locale. Io sono stato battezzato, come vi ho detto, picciotto nel locale di Bologna, nel carcere di Bologna-Dozza o di Milano-San Vittore. Quando io rientro in Calabria, vado a Platia, a Seminara, a Gioiosa Ionica, mi presento al capo locale, attraverso il picciotto di giornata, il quale ha tre giorni di tempo per chiedere informazioni e se non ha le informazioni giuste può rinviare i tre giorni in tre giorni, le informazioni per capire che io non sono un infiltrato e i tre nomi, che mi sono stati dati nel carcere di Bologna-Dozza, sono la copiata e la password per entrare nel computer. Io dico i tre nomi e quindi posso entrare nel locale di Indranghe e di Gioiosa Ionica. Mi chiamo il posto, si dice. Attraverso quindi il picciotto di giornata che vi ho detto che è la cinghia di trasmissione tra il capo locale e il resto del mondo. Nella società maggiore, dalla santa in su, c'è la società maggiore, dal santa, vangelo, quartino, trequartino, medaglione e quindi quello che nella società minore si chiama picciotto di giornata e nella società maggiore si chiama mastro di giornata. Questa, velocemente, a volo d'uccello, è la struttura dell'Andrangheta. Vediamo cosa fa, di cosa si occupa oggi l'Andrangheta, di cosa si occupava l'Andrangheta negli anni 70 con questa grande rivoluzione. L'Andrangheta, abbiamo visto, esiste, c'è, dove c'è da gestire denaro e potere. Le attività principali sono il traffico di cocaina, estorsioni, usura, appalti. Vediamo come le estorsioni. Perché si fanno le estorsioni? Le estorsioni servono anche, non solo a far mangiare i picciotti, ma anche a delimitare il confine del locale. Voi immaginate, un cane quando esce la mattina da casa va a fare la pipì, sul palo della luce, la cabina telefonica, la panchina, l'albero. Fa quindi un cerchio, un esagono, un ottagono. Stessa cosa fa l'organizzazione del locale di Andrangheta. Chiede l'estorsione dappertutto, ma su quella strada marca il territorio, chiede la mazzetta su questa strada, questa, questa e quindi chiude il locale. L'usura. L'usura è un reato giovane. L'andrangheta fa usura da non più di 25 anni, perché prima era ritenuto disonorevole fare usura, cioè approfittare dei bisogni della gente. Come esempio l'andrangheta non fa ancora, non fa sfruttamento della prostituzione, che lo ritiene disonorevole fare sfruttamento della prostituzione. Perché oggi l'usura fa, l'andrangheta fa usura? Perché l'usura è il mezzo più rozzo per riciclare. E allora cosa accade? Volete che continuo su questo cosa o volete fare domande? Come volete? Dite. Continuiamo? Allora, cosa accade? Vediamo come funziona l'usura. L'usura è come la tossicodipendenza, dall'usura non si esce. Un tossicodipendente esce dalla dipendenza e intanto ogni dieci ragazzi che entrano in un comitato europeo ce la fanno solo in quattro, gli altri non ce la fanno. E cosa accade a un ragazzo? Lo si spoglia, lo si fa tornare bambino di tre anni e pian piano gli si ricostruisce la personalità nell'arco di tre, quattro anni, se ce la fa. Cioè un tossicodipendente non può decidere nemmeno quanto sigaretta si deve fumare il giorno. Questo poi ci servirà se abbiamo modo di parlare della pena, dell'inutilità delle carceri in questo momento in Italia, dell'utilità del sistema detentivo e quindi della pena. Allora, cosa fa? Torniamo quindi all'usuraio. L'usuraio, dall'usura si esce forse se si trova una polizia giudiziaria in pubblico mistero capace a fare le indagini, un'associazione anti-usura e anti-racket capace di sostenere non solo economicamente ma anche psicologicamente e soprattutto psicologicamente perché l'usurato è come un bambino, diventa una persona insicura, diventa una persona debole. Allora, facciamo l'esempio di un commerciante che ha già due o tre istanze di fallimento alla cancelleria fallimentare. Dopo essersi fatto il giro dei parenti, quindi aver rastrellato i soldi dei parenti, finiscono anche quelli. Le banche avevano già chiusi i ribinetti. Lui ha un bivio. Lui può scegliere o di fallire, io consiglio sempre di fallire, oppure di rivolgersi ad un usuraio. Mettiamo il caso in cui lui scelga di andare dall'usuraio e chiede 100.000 euro. L'usuraio è in grado nell'arco di due o tre ore, gli darà 80.000 euro, non 100.000 euro, perché gli interessi vengono calcolati in anticipo. Allora, lui, l'usuraio, l'usurato è eccitato, cammina mezzo metro da terra. Era tempo che non vedeva tutti quei soldi. Subito andrà dagli avvocati per pagare il debito in modo tale che ritirino dalla cancelleria fallimentare le istanze. poi andrà dagli altri creditori, darà i soldi che doveva, comprerà altri prodotti, abbellirà il negozio. Per un paio di mesi pensa di potercela fare. Al terzo o quattro mesi si accorge che non c'è scampo, che non ce la farà. Lui non riesce nell'arco del mese a recuperare i soldi nemmeno per pagare gli interessi usurari. Quindi ci sarà un anno, due, tre di agonia. A un certo punto, quando arriva proprio al punto morto, che non c'è scampo, incominciano ad andare dei giovanotti a strattonarlo, a picchiarlo, spareranno la macchina, spareranno il negozio. Non bruceranno il negozio, perché il negozio sarà la garanzia del debito. Quando si brucia il negozio non è usura, è un'altra cosa. Il negozio deve essere preservato, perché poi vedremo cosa accade al negozio. Sparano alle serrande. Il giorno dopo esce l'articolo sul giornale. I parenti e amici andranno a dare solidarietà. Andrà anche un uomo dell'andrangheta, un anziano, un saggio, andrà a dare solidarietà. Dice, buongiorno, come state? Mi dispiace di questa cosa. Ho letto stamattina sul giornale. Ormai non si capisce più niente in questo paese. Ormai non c'è più un drangheta, non ci sono più gli uomini di una volta. Guardate questi ragazzi, queste cose. Io mi ricordo di voi, di quando eravate bambino. Mi ricordo di vostro padre che ha aperto questo negozio, vostro nonno, eccetera. Lui, il commerciante, può fare due cose. Prendersi da solidarietà, oppure incominciare ad aprirsi, che si trova in difficoltà, che vuole vendere l'attività, eccetera, eccetera. Se non lo fai in quel momento, dopo 15-20 giorni succederà un'altra cosa che provocherà l'articolo di giornale, in modo tale che questo dranghetista possa andare nuovamente dal commerciante. A quel punto il commerciante scoppia, parla, l'uomo, il saggio, che dice? Dice, ma se io non lo so, non è che io ho soldi io, però se c'è, sapete, mia nipote è fidanzata con un bravo ragazzo, però non lavora, è scappistrato, gira sempre con la macchina, siamo un po' preoccupati, vorremmo vedere il sistemato. Dice, vediamo, se ci mettiamo un po' tutta la famiglia a raccogliere un po' di soldi, ovviamente si capisce o non capisce, il commerciante non ce la fa, vende questo negozio, si va dal notaio, formalmente si vende questo immobile, nella sostanza il commerciante non avrà mai quei soldi del negozio, perché i soldi andranno all'usuraio da questa vendita fittizia, nella realtà spesso il commerciante da proprietario diventa garzò nel suo stesso negozio. Quindi immaginate lo stato di umiliazione, di prostrazione, non solo suo, ma quello della sua famiglia. Quindi non solo ha perso il denaro, ma ha perso anche la dignità e ha perso anche il rispetto nei confronti di sua moglie e dei suoi figli. Quindi mai rivolgisci agli usurai. Allora il ragazzo, il giovane che formalmente gli viene intestato questo negozio, abbellisce questo negozio, facciamo finta che questo sia un negozio di telefonini. Io compro questo telefonino 100 euro. Gli mettiamo un ricarico del 25%, quindi lo compro dalla fabbrica 100 euro, lo vendo 125 euro a lui. Togliamo un punto o due punti di questi 125 euro, che sono lo stipendio della commessa, che formalmente guadagnerà 1400 euro, di fatto dovrà restituire al proprietario 600-700 euro in nero. Però formalmente guadagnerà 1400 euro. Poi vi dico perché. E poi togliamo la spesa della luce, la spazzatura. Al netto noi avremo 23% di guadagno dalla vendita di questo telefonino. Facciamo finta. Quindi tutto ciò che io compro, io imprenditore, compro con questo 23% dopo aver pagato le tasse, nessuno mi potrà contestare la proprietà di quello che io ho comprato con questo 23%. E allora voi immaginate tante volte 125. Immaginate che questa cassa diventi uno scontrinificio. Se io aggiungo tante volte 23, 23, 23, io poi posso comprare la barca, l'appartamento al figlio a Bologna o a Roma o a Milano, posso comprare, posso poi parlare della settimana bianca, del sub fuori casa, eccetera. E voi immaginate ancora, anziché una cassa, 25 cassa di un ipermercato. Poi se volete ne parliamo di questo. Quindi come vedete è la forma più rozza di riciclaggio. Perché paradossalmente i migliori pagatori di tasse sono gli imprenditori mafiosi. Cioè un imprenditore normale tende a pagare meno possibili, meno tasse possibili. Un imprenditore mafioso invece tende a pagare più tasse possibili. Perché tutto ciò che io posso giustificare, perché il mio problema non è quello di guadagnare, ma di giustificare la ricchezza, di giustificare i soldi che sono dietro a questo muro, provente dal traffico di cocaina. E da qui a 5 minuti parleremo del traffico di cocaina. Quindi io non ho il problema di guadagnare, io ho il problema di giustificare i soldi che sono dietro questa parete, in quella stanza. Ora, vediamo gli appalti. Qui, dopo dieci anni, ho visto la collega Rinaldi che con affetta è venuta a trovarmi stasera. Proprio con lei abbiamo iniziato una delle prime, che era la procura di Locri, abbiamo iniziato una delle prime indagini sull'andrangheta che controlla gli appalti. Con quel processo abbiamo dimostrato come l'andrangheta controllava gli appalti 25 anni fa. E quindi noi oggi possiamo vedere come l'andrangheta controlla gli appalti oggi. Cioè, con la collega, cosa abbiamo dimostrato 25 anni fa? Abbiamo dimostrato, intanto, allora vigeva il principio della media mediata, si riprendeva la media più bassa, quella più alta, quella che si trovava nel mezzo se giudicava la gara. Nelle realtà, allora non esisteva una macchina a scrivere, le computer, esisteva una macchina a scrivere elettriche. Al massimo, la cosa più moderna è una macchina a scrivere elettriche. Quindi cosa si faceva? Spesso o con la macchina del segretario comunale o con la macchina a scrivere dell'ufficio del comune, ognuno redigeva l'offerta e si lasciava in bianco lo spazio per la percentuale di ribasso. Poi abbiamo fatto una perizia grafica e abbiamo visto che con la stessa grafica c'era una percentuale di ribasso a tutte le offerte. Quindi nella realtà, quando poi noi siamo andati al comune a prendere gli atti, abbiamo visto, abbiamo potuto dimostrare il falso materiale, ideologico, la truffa, la turbativa d'asta, l'associazione delinquere. E poi naturalmente, andando poi sui lavori, le difformità al progetto, cioè la percentuale di cemento inferiore, quindi cemento dipotenziato, solai più stretti, eccetera, eccetera. Oggi questo non accade più, perché noi oggi abbiamo, le gare si fanno col massimo ribasso. E quindi si fanno delle gare dove c'è il ribasso anche del 40%. Formalmente ognuno da casa sua, dal proprio ufficio, prepara l'offerta dal suo computer, quindi si deposita l'offerta e se noi andiamo in un comune, in un ente pubblico a sequestrare la gara, gli altri della gara, non trovate una virgola fuori posto, è tutto perfetto. E allora dov'è l'imbroglio? L'imbroglio è a monte. Si discute per macroarie. C'è ogni 40, in un bacino di 40-50 km quadrati, ci si riunisce nell'ufficio di un tecnico, di un architetto, di un ingegnere, di un imprenditore, si organizza una cena in un locale e si discute come il manuale Cencelli e la prima repubblica. Cioè a seconda della forza in campo che si ha, io mi aggiudico il mattatoio in quel paese, tu ti aggiudichi la scuola, tu la strada, tu l'impianto di illuminazione. E quindi si discute in quella sede quale deve essere, quale è la percentuale di ribasso? Qual è la percentuale di ribasso? Mettiamo il caso in cui vince la gara un soggetto che non era stato invitato a sta cena. Una ditta di Mantua, una ditta di Modena o di Bologna. Questo ha fatto un grosso errore. Perché scende in Calabria, vede e gli dicono che stiamo facendo. Allora, o ritiri l'offerta, scrivi una lettera al sindaco e dici, caro sindaco, anche se faccio l'imprenditore da 50 anni, non ho fatto bene i calcoli e non mi conviene fare questo lavoro. Oppure formalmente rimani titolare dell'appalto, dell'aggiudicazione dell'appalto, però noi ti forniamo operai, mezzi e materiali. Io mi auguro che non ci sia di qui nei prossimi anni, che non ci sia mai un terremoto in Calabria in questo momento. Perché le costruzioni degli ultimi 30 anni sono fatte tutte con cemento depotenziato. Io ho fatto, ad esempio, mi è capitato di fare un'indagine su una galleria, dove il cemento anziché al 400% era al 150%, cioè terra e acqua, dove un chilometro è costato più del canale della Manica, un chilometro di quella strada, dove le fondamente sono più corte di 7 metri, dove il solaio è più stretto di 12 centimetri. Quindi speriamo che non ci sia un terremoto. Di cosa si occupa l'andrangheta? Abbiamo visto, naturalmente, l'andrangheta si dice, ma se l'andrangheta è così ricca, perché interviene anche sulla ristrutturazione di un marciapiede di 20.000 euro? Perché noi abbiamo detto all'inizio che l'andrangheta c'è dove c'è da gestire denaro e potere. In una regione dove la disoccupazione è al 27%, se io riesco a fare lavorare 5 padri di famiglia per 20 giorni su quel marciapiede, questi si ricorderanno di votare alle elezioni il candidato prescelto dal capo locale. Quindi non è solo un fatto di guadagno della manzetta del 4%, è un fatto di gestione del potere, di mostrare che dove non riesce il sindaco, dove non riesce l'ufficio del comune, riesce il capo mafio. L'esternazione del potere. L'andrangheta, le mafie, non hanno ideologia. Non sono né di destra né di sinistra. Le mafie votano per il cavallo vincente. Il sistema elettorale attuale ha reso le mafie molto più forti rispetto a prima. Perché anche se le mafie, anche nei paesi a più alta di destra mafiosa, sono una minoranza. Ma basta controllare un pacchetto di voti che oscilli tra il 15 e il 20%, basta spostarli a destra o a sinistra. Io concorrerò a decidere chi farà il sindaco. E con la Bassanini, se voi pensate a un'altra Bassanini che ha semplificato, tra virgolette, tutto, cioè ha facilitato l'ingresso delle mafie nella pubblica amministrazione, ma alla grande, è possibile quindi poi scegliere il tecnico comunale e così ascendere. Quindi il capo mafia, che ha concorso alla nomina del sindaco, gestirà il comune. Ma la cosa più banale che può capitare a un capo mafia nell'essersi impegnato a raccogliere voti, qual è? Il giochino del piano regolatore. Alla periferia del paese c'è un latifondo che, dopo aver fatto vessazioni di ogni genere all'attifondista, glielo paghiamo formalmente e lui se ne va. Quell'attifondo, terreno agricolo, cosa vuol dire? Che ogni metro quadro si può costruire un mezzo metro cubo. Poi d'incanto c'è una relazione all'ufficio tecnico comunale che dice che prevede un aumento della popolazione del 15%. Quindi quella zona diventa zona B2, quindi ogni metro quadro due metri e mezzo cubo e il giochino è fatto. Da 10 euro al metro, da 5 euro al metro arriviamo a 200-250 euro al metro. Ma il grande affare dell'Andrangheta è il traffico di cocaina. Come è arrivata l'Andrangheta? Parliamo di questo? Come volete? Voi mi dovete dire? Io posso andare come volete. Va bene, allora parliamo del traffico di cocaina. Vi ricordate negli anni 70, allora se noi oggi fossimo negli anni 70, io vedendovi vestiti, oppure se lei avessi chiesto negli anni 70 quale cantatore ti piace, se mi avesse detto Battista era di destra, se mi avesse detto Vecchione era di sinistra. Se qua c'erano 10 tossicodipendenci, fossero stati 10 tossicodipendenti degli anni 70, se qualcuno mi diceva che usava cocaina era di destra, se usava eroino Ashish era di sinistra. Cosa c'entra questo? C'entra e ora vedete perché. Quando la maggior parte dei tossici d'Italia, chi si drogava usava Ashish eroina, che era monopolio di Cosa Nostra. Attorno a Palermo c'erano tantissime raffinerie di eroina. L'Andrangheta comprava eroina dai Corleonesi, comprava eroina da Cosa Nostra, oltre che portarla dall'Afghanistan e via Turchia, via ex Jugoslavia con i Tirri. Arrivava in Italia, arrivava a Roma, oppure arrivava dal Libano sulle coste del Mare Ionio. Quindi l'eroina era in mano a Cosa Nostra. La dragheta comprava eroina e la rivendeva nei mercati del nord. A un certo punto incominciano a cambiare gli usi, i costumi, i consumi. Quindi non c'era più una diversità ideologica, ma anche di costumi e di consumi. Oggi i ragazzi si vestono tutti allo stesso modo, mangiano lo stesso modo, ascoltano la stessa musica. Parlo sempre del 99%, quindi non dite io no. Chi si droga, l'80% dei tossicodipendenti usa cocaina. C'è un'omologazione. Questo processo di omologazione è accaduto perché c'è stata una crisi per 10.000 motivi. Ci vorrebbe una settimana qua per spiegare, ci vorrebbe un sociologo a spiegare perché siamo arrivati a questo punto di omologazione. Comunque spesso i giovani sono come polli da batteria, tutti uguali, che ascoltano la stessa musica, vedono le stesse trasmissioni, ridono davanti con le stesse barzellette, si indignano per le stesse cose. C'è un'omologazione di usi, consumi e gusti. Questo è accaduto anche per la cocaina. Cioè da una differenziazione di consumi, oggi l'80% dei tossicodipendenti usano cocaina, il 5% usa eroina, anche se in questa tendenza c'è un ritorno all'eroina, ora vedremo perché c'è un ritorno, grazie anche alla guerra in Afghanistan, perché c'è un ritorno all'eroina, il resto usa hashish o droghe sintetiche. In questo cambio di usi, consumi e consumi si inserisce l'andrangheta, capisce, intuisce l'affare, perché già l'andrangheta aveva i soldi con la stagione di sequestri di persona, quando in un triangolo di 15 km quadrati come Platista, Luca e Natile venivano gestiti anche se sotto sequestrati. Perché in Italia i sequestri di persone avvenuti in Sardegna e nell'Alto Lazio e nella Toscana gestiti dai sardi, in Veneto dai gestrai, qualcuno in Puglia dalla Sacra Coronita e qualcuno dalla Camorra in Campagna, tutto il resto dei sequestri di persone sono stati gestiti dall'andrangheta e custoditi in Aspromonte. Con quei soldi, oltre che ogni famiglia di andrangheta si è costruita il palazzotto e aveva grande quantità di denaro, ha incominciato a comprare cocaina, a portare cocaina dal Sud America, dall'Argentina, dal Brasile, dal Venezuela, in Italia. E noi abbiamo incominciato a sequestrare cocaina sin dagli anni Ottanta in Italia. Ma stiamo parlando di quantità di 5-20 kg, non di più, che allora ci sembravano grandi quantità. Cosa è accaduto anche? È accaduto anche la crisi di Cosa Nostra. Voi dovete sapere che Rina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra. Che Rina è stato un polle, se voi pensate. È stato l'inizio del latino dei Corleonesi. Che Rina si era messo in testa di dettare le regole del gioco. Non è stato più al gioco del gatto e la volpe, del gatto col topo, ma voleva dettare le regole del gioco. Oltre alla stagione dell'ostragismo, vi ricordate una mattina si è alzata e ha detto e che ne pensate se vi è alzata una mattina e non vedete più la torre di Pisa? Allora capite che chi era al governo al tempo incominciava veramente a preoccuparsi. Era un momento in cui era in crisi l'esistenza stessa dello Stato. Io ricordo in quegli anni cosa è stato quello stragismo e qual era la tensione in Italia in quel momento ai funerari in Sicilia. Allora, chiusa parentesi perché se no andiamo troppo lontano, torniamo al traffico di droga, con quei soldi l'andrangheta entra nel traffico della cocaina. Parlavamo di 20 kg al massimo, sequestravamo delle auto d'epoca provenienti da Buenos Aires, dalla Plata, delle macchine d'epoca, delle Ford T4, venivano portate. Oggi cosa accade? Oggi l'andrangheta è in contatto con i cartelli colombiani. Ma oggi non esistono più i cartelli di Medaino o di Cali. Oggi questi cartelli non esistono più, esistono una meriade di cartelli, al punto che quando l'andrangheta ordina 3.000-5.000 kg di cocaina, si devono consorziare più cartelli per arrivare a quella quantità. Cosa accade? Accade che l'andrangheta, perché è diventata importante l'andrangheta nel panorama internazionale del traffico di droga? Perché l'andrangheta è credibile, perché nella stagione dei collaboratori di giustizia non ha avuto collaboratori di giustizia. Mentre Cosa Nostra ha avuto quasi 1.000 collaboratori di giustizia, l'andrangheta ne ha avuti meno di 50. Tutti andrangheta di serie B o di serie C. Nessun capomacchio si è pentito in Calabria, tranne Franco Pino di Cosenza e Filippo Barreca di Pellero, una frazione di Reggio Calabria. Quindi vi lascio immaginare, non era nessuno dell'elite dell'andrangheta che si è pentito. Quindi l'andrangheta è credibile agli occhi dei cartelli colombiani. L'andrangheta ha soldi per pagare ed è talmente credibile che riesce a comprare in conto vendita, cosa che non riesce le organizzazioni palermitane. A me è capitato un paio di anni fa un'indagine dove, dalle nostre indagini, appunto è emerso, che un capo decina di Palermo, centro, è stato, Miceli Salvatore, è stato sequestrato dai cartelli colombiani, e è intervenuto anche un capomandamento, ma in Geragina per la liberazione non ci è riuscito. È intervenuto un andrangheta di serie C, di Siderno, e l'ha fatto liberare. Questo per farvi dire la credibilità di Sud America, dell'andrangheta, rispetto a Cosa Nostra, rispetto alle altre mafie. Andiamo, cosa accade in Sud America? Che l'andrangheta è entrata in contatto anche con le AUC. I terroristi, voi sapete che da decenni c'è una guerra civile all'interno della Colombia dove ci sono le AUC che sono dei paramilitari di destra, nati con la stessa idea. Vi ricordate quando la Lega anni fa voleva fare quegli angeli della notte che giravano, facevano le ronde? Allora, le AUC sono nate, con la stessa filosofia, cioè andavano nelle strade per fare una specie di ordine pubblico. In realtà hanno fatto poi della pulizia etnica, uccidevano prostitute, storpi, o se c'era qualche drogato. Le AUC si sono poi messe in proprio. Prima si accontentavano di chiedere la mazzetta per il trasporto dei container da una città dall'altra. Voi pensate che in Colombia tra una città e l'altra ci sono 500 km, 400 km, c'è una strada di popolazione bassissima. E quindi quando cammina un camion con la cocaina sopra, c'è un tronco, quel tronco può averlo messo i carabinieri, possono averlo messo i militari o i terroristi, le AUC o le FARC. Poi le FARC sono di ispirazione leninista, marchesista, e poi sono circa 40.000. Le AUC, che ora sono in estensione, vediamo perché erano 20.000, le LLN sono 5.000. L'Andrangheta è in contatto con le AUC, con i paratimidi tarimidese, a cui capo c'era Mancuso, che non è, come erroneamente dicono gli storici, un Mancuso di Limbadi, di Calabrese, ma è di Sapri, provincia di Salerno. Il padre era di Sapri, la madre era una colombiana. Cosa faceva questo, ma che è importante Mancuso? Mancuso aveva contatti col Parlamento colombiano e è andato tre volte nel Parlamento colombiano a trattare la cessione di un pezzo della Colombia, grande quanto l'Italia, in cambio della pace. E aveva nel suo libro paga 36 parlamentari, perché noi lo intercettavamo, avevamo fatto delle indagini dall'Italia. E questo Mancuso era importante perché in questa trattativa stava comprando una cittadella in Toscana, perché voleva in Italia stare un po' di anni nell'attesa che si sistemasse la situazione in Colombia. Gli piaceva il Brunello di Montalcino, comprava 700-800 bottiglie di Montalcino. Stava comprando degli aerei da Gheddafi, che prima aveva venduto l'Italia a Gheddafi, perché lì l'arma più piccola è un bazooka. Lì, anni fa, i terroristi hanno attaccato il tribunale di Bogotà con i carri armati, con i cannoni, e hanno ammazzato sei magistrati. Allora, perché vi sto raccontando questo? Perché quando io sono andato poi in Colombia con un arrogatore internazionale a parlare di questa indagine, perché stava diventando molto importante, perché avevamo scoperto dei patrimoni, delle ricchezze immense di questa organizzazione in drangheta terroristi, vado lì, scendo dall'aereo, appena accendo il telefono, mi chiamano dall'Italia, e dice, dottore, i telefoni non parlano più. Come non parlano più? E finora parlavano. Perché cosa era accaduto? Poi, col senno del poi, cosa ho capito? Arrivo nella zona rosa di Bogotà, la zona dove ci sono le ambasciate, sarebbe tipo Roma Prati, la zona dei ricchi, vado nell'albergo e vedo fuori tanti jeep blindati, tanti fuoristrade blindati, con degli uomini di verde, con gli estivali. Ho detto, ci sarà qualche festa in qualche ambasciata, e ci sono tutte queste scorte. Poi ho saputo, dopo due anni, perché poi questo Mancuso è stato arrestato, anche con le nostre indagini, gli americani sono più forti di noi in Colombia, e sono usciti ad ottenere l'estradizione, e sono andato a interrogarlo in un caccio di Washington. E lui mi ha detto, dottore, io quella sera sono venuto a vederla, perché volevo vedere che era questo pazzo che era venuto dall'Italia a indagare su di me. Dice, io la sua erogatoria, la fotocopia e la sua erogatoria, me l'ha data il generale dell'esercito colombiano. Quindi lui sapeva perfettamente l'indagio, ecco perché si era fermato tutto. Però, malgrado questo, poi si è riusciti ad intercettarlo, e quindi ad arrivare alla prova. Cosa accade in Colombia? L'andrangheta, oggi in Colombia, non compra più la cocaina, partecipa alla produzione della cocaina. Si costruisce, compra la pasta di coca, partecipa alla lavorazione della pasta di coca. Le sostanze da taglio vengono prodotte in tre multinazionali. Due tedesche e un'americana. Questo vi dico, perché vi dico questo flash, poi nel finale vi capirete perché. Allora, l'andrangheta in questo momento compra la cocaina in Colombia a 1200 euro al chilo, pura al 98%, tagliata fino al 23-24% a effetto stupefacente. Quindi da un chilo si possono fare 4,5 kg. Allora, quindi vi ho detto, un chilo costa 1200 euro, moltiplicatelo per 4,5, e poi un grammo fuori da lui si costa 50 euro. I prezzi sono diversi qua, come se lo mettiamo? Qualcuno di voi lo saprà, no? Allora, quindi come vedete non esiste nessuna attività tra lecita e lecita più redditizia della cocaina. Questo è il problema di tutti questi soldi che fine fanno. Andiamo in Colombia, cosa accade? Accade che produrre cocaina c'è bisogno di molti terreni, c'è bisogno di molto spazio. Cosa fanno i cocaleros per avere degli spazi? Vanno nei villaggi, vanno nei villaggi dove ci sono 80-100 contadini e li minacciano andarsene. Se queste non se ne vanno, prendono uno o due e li legano, li legano a un palo, prendono un cucchiaio e gli tolgono gli occhi. Oppure prendono un bambino di 2-3 anni, lo squartano e lo uccidono davanti alla madre per terrorizzare tutti ad andarsene da quella terra. Dove vanno questi poveretti? Vanno alle periferie di queste grandi metropoli. Voi pensate che Bogotà ufficialmente ha 5 milioni di abitanti. Di fatto ci sono 12 milioni, ci sono 7 milioni di abitanti non censiti. cosa vuol dire 7 milioni non censiti? Vuol dire che sono dei soggetti dove la vita di un uomo costa quanto una bicicletta. Vuol dire che basta vestire quella persona, fargli ingerire un chilo e mezzo di cocaina, questi vengono in Italia gratuitamente pur di arrivare in Italia con documenti falsi. Vivono in posti dove noi 50 anni fa, 60 anni fa non tenevamo nemmeno i maiali. Quindi questo per farvi capire la violenza e la fame. In tutto questo poiché la cocaina è l'unico posto al mondo dove si produce la cocaina è in Colombia e in Bolivia lo stato naturale. Perché? Perché noi siamo lì su 2.200-2.600 metri a livello del mare e non esiste in quella parte del territorio non esiste né l'inverno né l'estate. Sono due stagioni che si alternano primavera e autunno. C'è il sole 2 ore piove mezz'ora e 20 minuti poi di nuovo il sole. La temperatura minima di notte è 8 gradi di giorno 22-24 gradi. Quindi il clima ideale qualsiasi cosa voi piantate si produce. Ma si produce 3-4 volte l'anno non una volta l'anno. Poi capirete perché vi sto dicendo queste cose. Non vado fuori tema. A un certo punto interviene l'ONU interviene l'ONU e dice dobbiamo sconfiggere questo traffico di cocaina e cosa pensa l'ONU? dal trentesimo piano di New York. Facciamo una politica di contrasto ai narcotrafficanti e cosa ci inventiamo? Gli affumicamenti. Cosa sono gli affumicamenti? Avete presente i canadere quando si incendiano le mani? Anziché l'acqua cade tutte le volte ci sono gli spruzzi come gli innaffiatoi. In questi canadere bisogna mettere acqua e veleno. Mancù sapete cosa mi ha detto? Dottore noi pagavamo i piloti e buttavano acqua quindi ci innaffiavano ancora di più le piante. Quindi è fallito. L'integrazione. Se io pianto cocaina se io coltivo cocaina per produrre le piante di coca per produrre la cocaina guadagno 100 io contadino. se pianto a Gran Turco guadagno 60 allora l'ONU che dice? La differenza del 40% gliela diamo noi. L'integrazione come per l'olio per le arance eccetera. Ma l'ONU ragionava dal trentesimo piano di New York. E dal trentesimo piano di New York non si vedono bene le cose perché l'ONU dove ha sbagliato? Doveva scendere e sporcarsi le mani. Doveva scendere sulla terra e contattare direttamente non dare la possibilità alla pubblica amministrazione corrotta colombiana di gestire questo problema perché se fossero stati capaci lo avrebbero già risolto da prima prima che diventassero miliardari i trafficanti colombiani dove i soldi non si contano si pesano sono talmente tanti che non hanno il tempo di contare sanno che in un chilo ci sono tutti e ci sono corrispondi a totte moneta e quindi si pesano i soldi. Allora cosa dovevano fare? Dovevano scendere lì sul campo con i baschi blu con i caschi blu andare lì e discutere con i contadini io ti do tanto tu però non mi devi costivare e invece questo non è accaduto quindi la politica di conversione dell'ONU ogni volta che dico queste cose mi telefonano mi chiamano da Vienna perché c'è un'organizzazione internazionale mi chiamano da New York per contestarmi questi dati e io dico perché se io stesse zitto a quest'ora sarei procuratore della Repubblica ma siccome mi piace parlare sono ancora giunto ma non è questo il problema c'era una pubblicità di qualche anno fa che dice suonare la tromba al matrimonio di lei non apprezzo è una bella espressione mi piace quindi dire quello che uno pensa è la cosa più bella non apprezzo allora cosa rispondo io ma se ogni anno quando facciamo le analisi delle acque nei fiumi d'Europa le tracce di cocaina aumentano cosa vuol dire che o sono falsi i primi dati o sono falsi i secondi non c'è scampo e quindi andiamo a rivedere questa politica di contrasto al narcotraffico questi soldi non restano in Calabria come abbiamo scritto questi soldi perché la Calabria deve essere tenuta sempre con le mani tese col cappello in mano perché se tu crei indipendenza economica crei libertà tu devi tenere schiacciata la popolazione i soldi si investono da Roma in su si investono nelle zone ricche per mimetizzare meglio i soldi si investono in Europa si investono in Canada negli Stati Uniti in Australia si investono nel mondo occidentale dunque certamente quello che ha detto è veramente sconvolgente anche se diciamo leggendo il suo libro già le cose le sapevo però averle apprese dalla viva voce fa sempre un altro effetto no le volevo chiedere diciamo di fronte a questa situazione così che dire grave è poco quali sono però anche gli elementi che ci consentono come appunto per esempio la sua presenza qui stasera una parola di speranza rispetto a questa cosa qui altrimenti insomma la cosa è veramente quindi le volevo dire innanzitutto nel merito di quello che ha detto della struttura quali sono i rapporti lei ha detto che non c'è un capo mafia come in Sicilia nell'Andrangheta eccetera ma i rapporti ma i rapporti per esempio tra i vari capi e le endrine come diciamo come c'è com'è questo rapporto se c'è e com'è e poi le volevo dire di fronte a questa situazione no qual è il ruolo che in Calabria per esempio hanno la chiesa la scuola l'università diciamo per alcuni versi anche la pubblica amministrazione alla politica perché penso che anche lì ci sia se anche all'1% un barlume di speranza su queste cose qui ecco queste erano le mie riflessioni grazie ho più domande ci vogliono tre ore per dare questa risposta allora guardi non ce l'abbiamo scelgo qualcosa per rispondere perché veramente ci vorrebbe molto tempo per spiegare io anche stasera vi chiedo scusa su molte cose ho dato velocissimo perché ci tenevo ad arrivare a questo punto però non è così superficialissimo come l'ho raccontata la storia no la cosa lei mi ha mi parla di speranza qualcuno mi parla mi dice che sono pessimista mi dice che devo essere ottimista io sa cosa dico io in genere io ormai sono una subrette vengo invitato dappertutto in tutti i posti televisioni giornali nelle scuole dalle scuole elementari l'università in Italia in Europa in America perché sono di moda si sono fissate la gente così però le dico questo io quando vado a parlare agli adulti per me è tempo perso per me è una passerella per loro e per me parlare agli adulti vuol dire hai visto hai visto hai visto si è fatti i capelli hai visto c'era il vestito nuovo ma sono ancora ancora assieme voglio dire chi è onesto uscendo da qui continuerà ad essere onesto chi è disonesto continuerà ad essere disonesto parlare ai ragazzi invece è una cosa importantissima è utile per me come per il credente entrare in chiesa è una cosa molto importante e molto delicata e quindi io starei molto attento da parte dei dirigenti scolastici che ora si chiamano dirigenti scolastici per prenderli in giro cioè gli lasciano lo stesso stipendio e insieme a chiamarli presi gli chiamano gli stessi scolastici starei molto attento perché molta gente va nelle scuole a manipolare i ragazzi a usare i ragazzi allora io dico ai ragazzi state attenti non vi fate imbrogliare dalle adulti noi siamo un pessimo esempio per voi giovani la mia generazione è una generazione di falliti perché io consegnerò ai miei figli un mondo peggiore di come l'ho ricevuto quindi ho poco da insegnarvi io l'unica cosa che vi posso dire è studiate che è la vostra unica arma di riscatto per capire il mondo degli adulti per non essere fragati dagli adulti io non posso raccontarvi balle non posso raccontarvi non sono qui per dirvi ce la faremo non mi interessa questo non voglio che voi vi rilassiate e vi sietate sì tanto usciamo non è vero che usciamo noi l'anno scorso abbiamo arrestato mille andranghettisti in provincia di Reggio Calabria e se io vi dico che ci sono altre 9.000 cosa cambia perché vi devo prendere in giro e dire che ce la stiamo facendo perché dovevo stare zitto quando certi ministri hanno detto è merito di questo governo che abbiamo arrestato mille qua e là non è possibile sapete perché non va bene l'applauso vi dico subito perché perché voi state pensando al penultimo governo io vi dico io vi dico che i governi degli ultimi 20 anni ci hanno insegnato che chiunque è stato al potere chiunque è al potere non vuole una scuola che funzioni e non vuole un sistema giudiziario che funzioni perché chi è al potere non vuole essere controllato e non vuole una scuola che funzioni perché vuole un popolo bue che ride davanti alle barzallette perché il popolo ignorante vede trasmissione spazzatura non legge e non capisce non capisce la manipolazione quindi non ne faccio una questione né di destra né di sinistra nessuno può stare tranquillo perché vi posso dimostrare se avessimo purtroppo abbiamo poco tempo posso dimostrare cosa non ha fatto cosa non hanno fatto anche i governi di centro-sinistra allora perché io non posso non posso darvi segni di speranza perché io non sono né ottimista né pessimista io racconto per sintesi a seconda di quanto tempo più di 25 anni della mia vita non parlo nemmeno non solo come magistrato ma anche come uomo come cittadino perché ho iniziato io andavo a scuola con i figli dei capi mafia il mio campaglio di scuola di banco è stato ucciso a Lupara quindi non è che vengo dall'Ersolino dai salesiani io sono cresciuto sui marciapiedi di Locri andavo a scuola con l'autostop quindi conosco bene il modo di pensare di agire del mafioso e dell'ondranghettista e quando qualcuno mi dice quando finirà la mafia io dico con questo sistema giudiziario e con questo sistema scolastico la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra perché se voi ci pensate in ognuno di noi c'è un pochino di indranghettista o comunque di mafioso perché se il vicino è un centimetro più alto di me io gli devo abbassare la testa perché non può essere più alto di me perché io devo anche con lo sgombetto andare avanti a lui e questa non è mafia e non fermiamoci solo alla mafia in senso stretto classico pensiamo al quotidiano di ognuno di noi e vediamo se ci comportiamo sempre ai cittadini modello o noi commettiamo almeno quattro abusi d'ufficio al giorno allora cosa le sto dicendo con questo sistema giudiziario io non posso essere ottimista perché come vede stanno passando gli anni i mesi ma di modifiche normative per risparmiare milioni di euro e per abbattere i tempi che i costi della giustizia non se ne fanno non se ne stanno facendo perché io da anni noi quasi provocatoriamente col professore di casa abbiamo scritto un libro la giustizia è una cosa seria dove abbiamo detto che in meno di 3-4 pomeriggi un medio operatore del diritto non un professore universitario o un magico un medio operatore del diritto un laureante in giurisprudenza è in grado modificando 8-10 articoli del codice del procedimento penale abbattere i tempi e i costi del processo del 60-70% voi immaginate il quasi inutile avviso a fine indagine dei processi di criminalità organizzata solitamente quando una persona viene arrestata cioè man mano che stanno passando gli anni si anticipa sempre più la presenza del difensore nella fase di indagini preliminari prima le intercettazioni si potevano avere al tribunale della libertà poi al GIP ora nel momento in cui il soggetto viene arrestato l'avvocato ha diritto ad avere copia dell'intercettazione telefonica quando finisce l'indagine bisogna fare un avviso il 415 mesi bisogna fare l'avviso ai difensori agli indagati che il processo si è concluso quindi venite in cancelleria avete 20 giorni di tempo eccetera eccetera lo sapete meglio di me bene per fare questo giochino ci sono due possibilità uno con l'ufficiale giudiziario ma siccome l'ufficiale giudiziario spesso è miope non vede bene confonde il numero 8 con il numero 6 e quindi non mi fa la garantifica correttamente e lo spesso esce per decorrenze di termine allora siccome non mi fido dell'ufficiale giudiziario mi rivolgo alla polizia giudiziaria che anziché fare indagini vanno in giro per l'Italia a fare i messi notificatori ma sapete che costa milioni di euro sto giochino ma se noi se noi invece facessimo una modifica al codice di procedura penale e dicessimo che le notifiche devono non possono devono delle notifiche agli avvocati devono essere fatte con la posta elettronica certificata cosa vuol dire che io che la mia segretaria in 10 minuti mette gli indirizzi 70 avvocati e quindi quasi a costo zero notifica 70 avvocati spasse per l'Italia l'avviso di indagini perché per fare l'avviso di indagini fa 70 avvocati mediamente perché vadano a buon fine si impiegano 3 mesi quindi il processo dura 3 mesi in più il detenuto sta 3 mesi in più eccetera eccetera spende quando noi facciamo queste mega operazioni arrestiamo 50-60 persone voi avete visto ormai che le ordinanze di costante cautelare sono di 1000-2000 pagine perché il corpo sono le trascrizioni intercessionali telefoniche il corpo dell'ordinanza allora cosa accade che questo giochino costa 35-40 mila euro e allora cosa si potrebbe fare una cosa semplicissima l'avvocato paga i diritti di segreteria me li manda via email la prova che ha pagato le segreterie e io via email mando sul computer dell'avvocato l'ordinanza di custodia cautelare il detenuto va in carcere e in una stanza ci sono 40 computer 30 computer che sono buttati nei magazzini delle procure dei tribunali inutilizzati perché sono di 3 anni fa quindi non ci piacciono più e allora e si leggono l'ordinanza di custodia cautelare quante volte vogliono e noi abbiamo risparmiato 40 mila euro ma non abbiamo risparmiato solo quei soldi anche la forza lavoro il tempo perché la polizia giudiziaria anziché fare indagini viene la nostra segreteria a fare fotocopia ma voi capite che stiamo facendo ragionamenti di una madre di famiglia di una massaia qua non stiamo parlando di diritto per arrivare a questo tipo di ragionamenti mia madre con la terza elementare ci sarebbe arrivata eppure si discute ancora di queste banalità e nessuno che mette mano stiamo solo parlando ma vi pare normale che in Piemonte ci sono compresa la Corte d'Appello di Torino ci sono 17 tribunali noi abbiamo fatto uno studio con il professore di caso solo in Piemonte si possono chiudere 10 tribunali perché ogni 25 chilometri di autostrada non la Salerno Reggio Calabria 25 chilometri di Ettiligno c'è un tribunale voi sapete che alla procura di Aquiterme c'è un procuratore è un sostituto ma questo sostituto che fa? si guarda allo specchio e si parla con chi parla questo qui? eppure c'è un tribunale ma voi sapete cosa vuol dire chiudere 40 tribunali? vuol dire che 40 procuratori andranno a fare i sostituti anziani nei tribunali più vicini e qui fanno indagini 40 presidenti di tribunale andrebbero nei tribunali più vicini a scrivere sentenze vuol dire 80 macchine blindate in meno 80 autisti in meno vuol dire 80 uffici di ragioneria in meno vuol dire risparmiare freddamente riscaldamento di 40 palazzi questi sono i tagli da fare non i tagli lineari i tagli lineari li facciamoli fare a un ragioniere non a chi vuole amministrare il paese e questi soldi spendiamoli per pagare le intercettazioni telefoniche di società che stanno fallendo e non fanno più ricerca e quindi noi ancora ci stiamo allontanando dalle nuove forme di comunicazione dei criminali potremmo parlare una settimana di questo ma vi assicuro che siamo lontani dai problemi reali del sistema giudiziario potremmo parlare dell'intercettazione telefonica potremmo parlare delle carceri le carceri sono i contenitori ora sostanzialmente quando c'è stata l'indulto io mi ricordo sono capitati in una trasmissione dove c'era un ministro poi siccome non gli è andata tanto bene la trasmissione non è andata in onda l'hanno mandata alle due meno un quarto di notte quella trasmissione perché avevo spiegato un po' di cose col mio modo delicato e allora dico quando c'era l'indulto i parlamentari andavano nelle carceri e facevano la ola vi ricordate poi mi è capitata un'altra trasmissione in diretta un parlamentare uno che aveva detto 30 anni prima che voleva vedere le chiese bruciare con i peretti dentro ricordate questo episodio perché vi dico questo perché questo parlamentare gli ho detto senta onorevole ma perché ha votato per l'indulto ha capito l'inutilità dell'indulto per risolvere i problemi e dice eh dottore è venuto il santo padre a chiederci nel Parlamento dico grandissimi ipocrita che non sia altro ma almeno stai morendo hai capelli bianchi anche almeno per una volta prima di morire di la verità di che hai sbagliato che è stata una miopia tua di valutazione per non dire questo mi dici che è venuto a dire il santo padre quando tu i preti li vorreste fucilare al muro per dirvi davanti a queste a queste cose a queste pillole che vi sto dando c'è poco da stare tranquilli perché vi dico che anche oggi anche in questo momento non si sta discutendo e non si sta attuando perché per fare queste modifiche delle quali abbiamo parlato c'è modificare otto articoli dieci articoli del codice di procedure penale ci vuole un pomeriggio di un laureante in giurisprudenza eppure ci stiamo ancora girando quando parliamo del sovraffollamento delle carceri sovraffollamento delle carceri perché non si fanno dei trattati bilaterali tra Italia e Romania Italia Albania Italia Tunisia e i soggetti detenuti condannati con sentenza definitiva vanno a scontare la pena i loro stati e che ci vuole a queste trattate bilaterali e che ci vuole a creare i campi di lavoro e far lavorare i detenuti per mangiare perché il detenuto deve stare otto ore al giorno a vedere il canale 5 nella cella o ore alle quattro e non può invece andare a lavorare in un campo perché se il lavoro oggi attualmente viene pagato perché non vuoi andare io perché con le mie tasse devo ancora pagare e mantenere il detenuto il detenuto deve lavorare perché ha creato già un danno quando era fuori e ora mi deve creare anche un'ulteriore spesa quindi cerchiamo di essere pratici cerchiamo di non essere ipocrite e non dire che per tutti è la pena tendere l'educazione del condannato perché se voi leggete le sentenze degli ultimi 70 anni 80 anni le sentenze di mafia questa lettura vi dice che il mafioso finisce di esserlo quando muore allora chi si può si può rivedere un omicida il contadino che uccide il pastore perché la capra gli ha mangiato la vita il marito che uccide l'amante della moglie il rapinatore un soggetto debole che viene adescato davanti a un negozio di videogiochi è ovvio che quella persona si può rivedere ma chi è stato battezzato nell'andrang dentro Cosa Nostra e per lui è un credo stiamo perdendo tempo è inutile che scimmiottiamo incominciamo a rendere il gioco non conveniente io non parlerei né di morale né di etica sì la scuola è importante per i ragazzi per i giovani farli studiare e non trasformare le scuole in progettifici ma sui mafiosi non scherziamo sui mafiosi creiamo un sistema penale detentivo tale che non sia conveniente delinquere altrimenti se noi ancora stiamo a scimmiottare per la situazione delinquere di stiamo mafioso a 7-8 anni non ne usciamo ma attenzione volevo dire ora che stiamo parlando della pena ma attenzione il problema in Europa stanno peggio che in Italia stiamo peggio noi in Italia abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo malgrado questo siamo l'unico paese al mondo che abbiamo quattro mafie malgrado questo però vi dico che il sistema penale processuale detentivo non è proporzionato alla realtà criminale d'accordo il problema è l'Europa l'Europa è una grande prateria dove si può pascolare tranquillamente nessuno vi controlla voi potete girare 300-400 km per l'Europa non c'è la macchina della polizia che vi controlla non c'è la cultura del territorio non c'è un codice noi siamo in Europa perché siamo in Europa noi in Europa cosa abbiamo perché l'Europa Unita abbiamo la moneta unica che ci facilita gli scambi hanno tolto le barriere e quindi ci muoviamo più velocemente non solo noi ma anche i mafiosi discutiamo mesi delle quote latte della lunghezza delle banane ma non discutiamo di omologare i codici se io vado in Germania io vado in Germania da 15 anni 15 anni fa quando sono andato la prima volta in Germania c'erano i vertici della polizia mi fanno ascoltare un po' di telefoni e dico guardate che voi fra 10 anni qui avrete gli stessi problemi che abbiamo in Italia perché già sentivo parlare di locale e loro pensavano che era l'edificio che era il negozio il locale era l'organizzazione in dranga dico attenzione perché noi sentivamo gente che dicevano dall'Italia compra che devo comprare tutto quello che invente tutto quello che c'è da comprare in Germania dell'Est alberi, ristoranti, pizzerie eccetera bene mi hanno detto sostanzialmente il problema non ci interessa perché le mafie stanno costruendo a costo zero stanno ristrutturando la Germania dell'Est così è accaduto tre anni fa la strage di Duisburg quindi mi chiamano come pazzi dalla Germania e dicono dottore è successo cosa? ma cosa avevo detto io? mi ricordate i giorni fa sì ma le indagini sono nate dall'Italia infatti poi ci hanno fatto ci hanno mandato anche se l'omicidio è avvenuto ai sei omicidi a Duisburg l'abbiamo fatto celebrato all'occhio il processo però la cosa che voglio dire è questa in Europa e poi gli ho detto incominciamo a mettere i microspie nei locali pubblici non si può io come non si può e dico ma se queste le riunioni le fanno nei locali pubblici perché nel ristorante da Bruno intanto c'è uno dei sei ragazzi uno dei sei morti nel portafogli aveva l'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata quella notte compieva 18 anni e era stato affiliato all'andrangheta entriamo nel locale da Bruno sulla credenza c'era la statua di San Michele Arcangelo dico qui è un tempio qui fanno le riunioni di indrangheta mettiamo le microspie locali pubblici non si può perché in Germania ancora hanno nella testa il regime di quando in ogni casa c'era almeno una microspie perché il regime della Germania dell'est doveva controllare i cittadini andiamo a Rotterdam gli facciamo un corrugatorio gli facciamo mettere dei telefoni eccetera eccetera il collega mi dice guarda questo soggetto intercettato era il soggetto a cui doveva arrivare un contene di cocaina al porto di Rotterdam il porto di Rotterdam bisogna proprio vederlo è qualcosa di può essere la metà di Roma tutto contene una cosa incredibile noi sapevamo solo che il soggetto deve andare a riterare il contene il collega in sede di riunione mi dice dobbiamo arrestare questo e come lo arresto se lo arresto perdiamo il contene e guarda dall'intercettazione emerge che lui in casa ha due chili di cocaina dico ma noi perdiamo il contene la legge il sistema olandese non prevede il ritardato arresto il ritardato sequestro capito? mentre noi in Italia ragioniamo noi vogliamo la gallina domani non lo voglio oggi se voi andate in Spagna a Madrid a Barcellona non potete fare una perquisizione di notte e quindi dovete aspettare l'alba per poter fare la perquisizione dico ma se io sono in un appartamento di Barcellona e ho della cocaina io la mattina all'aurora guardo dalla finestra e se c'è qualche macchina sospetta qualcuno sospetta butto la cocaina nel water e la perquisizione sarà negativa perché ancora in Spagna hanno il franchismo nella testa dove di notte le persone venivano prese e scuagliate vive quindi come vedete noi non siamo in Europa dal punto di vista normativo allora se qualcuno si appassiona a questo fate qualche tesi su questo che è interessante che è un mondo inesplorato fate la comparazione tra i sistemi italiani vi crea un po' di tempo però è stimolante è bello è affascinante come tema per non parlare dei sistemi penali processuali sudamericani o nordamericani che c'è da mettersi le mani ai capelli non vi dico come risolvono il problema dello spollamento delle carceri passiamo ad un'altra domanda c'è un ragazzo qui ha già risposto buonasera appalti cosa ne pensa della suddivisione della tratta della Salerno-Reggio in 11 macrolotti e una serie esterminata di microlotti secondo lei la vedremo la vedremo insomma noi finita la Salerno-Reggio prima di morire io la cosa che penso è che i calabresi sono molto pazienti no per un semplice motivo perché ogni anno scende il presidente dell'ANAS e ogni anno ci sposta la data no ora l'ultima data che ha dato è quella del 2013 ah e ho visto l'accelerazione dei lavori allora nella sostanza cosa accade voi sapete che c'è il controllo del territorio ogni volta man mano che l'autostrada scende ogni volta che i lavori passano da un locale il soggetto le trattative vengono fatte sempre col capo locale quindi il capo locale che noi abbiamo fatto diverse indagini iniziando da Cosenza fino a Reggio Calabria e già più volte già almeno in tre grosse indagini è emerso questo controllo assoluto del territorio questa parcellizzazione dei lotti che corrispondono esattamente al territorio del comune dove poggia appunto l'autostrada altre domande veloci un secondo due cose il fatto di come le organizzazioni europee tipo Europol ed Eurojust quanto contribuiscono alla lotta seconda cosa vabbè allora guarda sono stato invitato a marzo dello scorso anno al Parlamento europeo a Bruxelles e poi sono stato invitato a Strasburgo un paio di mesi fa naturalmente forse chi mi ha invitato si è pentito amaramente perché eravamo 42 magistrati di Europa di tutta Europa poi c'era un rappresentante di Eurogest Europol tutte queste sigle io naturalmente ho esordito dicendo che vorrei sapere chi è quella persona che ha scelto come sede di Eurogest l'AIA l'AIA è il posto più scomodo per raggiungere l'Europa voi dovete prendere un aereo Roma Amsterdam voi dovete prendere due treni se sbagliate il secondo treno è arrivato in Germania e poi dovete fare un chilometro e 600 metri o a piedi o col taxi no allora se io ho un erogatore internazionale con un collega di Barcellona cosa faccio prendo l'aereo da Roma e arrivo a Barcellona oppure lui da Barcellona viene a Roma se invece dobbiamo fare un incontro ad Eurogest tutti e due dobbiamo fare questo giro quindi come vedi è anti-economico quindi non solo in termini di spesa ma anche di soldi e infatti io provocatoriamente quel giorno infatti il collega si è offeso credo che io non diventerò mai giudice di Eurogest e gli ho detto facciamo una cosa provocatoriamente perché a me piace provocare e questo è un motivo per il quale non accetto mai incarichi ministeriali ogni volta rifiuto incarichi che dico che sono lusingato perché mi piace parlare così se io fossi un consulente non potrei più parlare così allora dico facciamo una cosa facciamo un giochino chiediamo al ministero ai vari ministeri quante erogatorie vengono trattate attraverso Eurogest e quale direttamente trattato di Schengen noi abbiamo trattato di Schengen che è meraviglioso io massimo ogni due giorni faccio una regatoria continuamente online e parliamo cioè io non parlo io attraverso te io parlo bene il calabrese e così così l'italiano quindi non pensate che io parli inglese francese io sono mediamente una volta al mese all'estero anche ogni 20 giorni all'estero ma non conosco una parola di inglese anche perché non l'ho imparato perché come scendo dall'aereo c'è l'interprete che mi accompagna di nuovo fino alla porta dell'aereo quindi io non imparerò mai una parola di inglese o di spagnolo o di castigliano quindi vi dicevo tutti evitiamo Eurogest perché non ci serve Europol e vi siete chiesti quante persone lavorano in Europol e cosa può fare Europol rispetto alla criminalità che c'è in Europa voi sapete quanti trafficanti di cocaina latitanti di indrangheta camorra cosa nostra sacronita vivono indisturbati in Europa ogni tanto arrestiamo qualcuno arrestano qualcuno su nostre indagini gli mandiamo via email la foto dice vai in quella casa quel numero che c'è tizio molte volte mandiamo noi la polizia lì per indicargli i propri latitanti e che vengono indisturbati anche nella strage e attenzione i mafiosi i latitanti che non sono capi mafia e quindi non devono restare sul territorio rimanere sul territorio per controllare il territorio preferiscono vivere in Europa e se arrestati non vengono in Italia vogliono rimanere in Olanda che stanno bene li trattano bene in indecetazione no dice io sto bene qua e non voglio andare in Italia dice ma voglio stare qua in Olanda perché li trattano bene stanno bene è pieno di latitanti in Spagna voi non avete idea quanta gente c'è in Spagna che traffica cocaina che sono broker ci sono depositi di cocaina in Spagna la Spagna è il ventre molle dell'Europa ci sono tonnellate di cocaina ci sono colonie di colombiani che vivono lì stabilmente e gestiscono lo stoccaggio di tonnellate di cocaina ma le nuove frontiere della droga non sono più l'Europa non è più la Spagna ma il centro Africa dove dove non ci sono trattati bilaterali cioè è ancora più difficile per noi fare indagini perché non ci sono trattati bilaterali c'è una corruzione maggiore rispetto al Sud America ma soprattutto ci sono molti più uomini delle istituzioni e degli eserciti che danno anche in uso piste per atterrare con gli aerei o per trattare questi grandi questi veramente ingenti quantità di cocaina che l'Andrangheta compra da 3.000 8.000 kg per volta non si muovono meno di 3.000 kg di cocaina noi riusciamo a sequestrare in Europa il 5% della cocaina che arriva eppure guardate che ogni anno sequestriamo tonnellate di cocaina a proposito di ottimismo domande sì dottore sono qui ecco tempo fa ho assistito a una conferenza in cui parlavano i testimoni di giustizia che sono diversi dei collaboratori di giustizia che sono i mafiosi che hanno commesso atti e sono protetti dallo Stato mentre i testimoni sono quelli che incensurati hanno assistito a un delitto e poi sono stati ecco però hanno detto che si trova in una situazione strana perché in Italia non è sanzionato questo diciamo istituto potrebbe essere uno strumento per noi per denunciare questo non è vero loro vogliono dire un'altra cosa allora la gestione in senso lato dei collaboratori di giustizia dei testimoni di giustizia è la cosa più difficile e più delicata che possa capitare a un pubblico ministero o un giudice cosa voglio dire voglio dire che spesso i magistrati non sono attrezzati culturalmente e come tecnica di indagine a fare questo tipo di interrogatori cosa voglio dire spesso appena dicono c'è qualcuno che vuole collaborare c'è la corsa che arriva prima a mettere il cappello sulla piede e se lo accaparra se lo prenota a questo collaboratore di giustizia invece in un ufficio serio una procura seria cosa deve fare il soggetto chi è tizio quindi fa parte di quel locale cosa bisogna fare bisogna prima studiare la storia criminale del soggetto poi dei suoi amici e poi dei suoi nemici poi si va a interrogarlo ci si siede quando si interroga si parla non bisogna muovere la faccia non bisogna provare né piacere né dispiacere non bisogna annuire non bisogna condizionarlo perché il soggetto quando inizia a collaborare diventa un bambino un bambino furbo attenzione perché un bambino furbo perché tende a non dire tutto per varie motivazioni comunque non dice tutto ed è il peggiore errore per un pubblico mistero non saperlo interrogare non svuotarlo tutto completamente perché se non dice tutto quel poco che quella famiglia che risparmia la ricatterà per il resto della sua vita si tiene quella ciambella la parte che non dice è la ciambella è la ciambella la coperta di Linus allora noi dobbiamo svuotarlo completamente questo collaboratore deve dire tutto dobbiamo togliere il sangue dalle rapi solo in questo modo tu preservi dai un'utilità al processo e preservi lui da eventuali ricatti da eventuali fuga e ripensamento un'altra cosa importante è dire la verità non promettere mai nulla prima non promettere mai mari e monti per indurlo a parlare anche perché molti vanno a interrogare e non sanno quali sono cosa può avere un collaboratore di giustizia o un testimone di giustizia quali sono i suoi diritti nessuno glieli spiega bene ma lo si invoglia come se fossimo al mercato a comprare qualcosa a parlare e poi i problemi vengono dopo quando ti capita un collaboratore di giustizia è come se ti adotti un figlio non te lo togli più di dosso c'è il problema della luce dei figli a scuola del cambio di identità tu ce l'hai sempre addosso per il resto della tua vita dopo vent'anni ti telefonano perché in quella casa c'è umidità e quindi se non risolviamo questo problema lui non viene a parlare ecco perché io sempre sono stato fissato con le indagini tecniche con le intercettazioni telefoniche e ambientali ecco perché anche perché non abbiamo avuto come vi dicevo prima con la potenza di giustizia però io noi a Reggio Calabria abbiamo costruito la prima sala intercettazione con il sistema digitale più grande d'Europa a costo zero per il ministero il ministero di giustizia non ha speso una lira e noi abbiamo la migliore sala intercettazione d'Europa che poi queste società sai come l'ho fatta ho incontrato gli ingegneri informatici vedete tu la follia mi ha detto guardate noi non abbiamo una lira io non ho una lira non vi posso dare niente noi avevamo una sala intercettazione che era un insieme interrato frequentata da topi bratte e scarafaggi nessuno voleva entrare a fare intercettazioni però la legge cosa dice dice che le intercettazioni devono essere fatte presso la procura a meno che tu non scrivi il falso scrivi una certificazione dicendo che la sala intercettazione è occupata o non funziona e quindi puoi farle presso la sala dell'APG però a me non andava di fare eventi falsi al giorno di certificare eventi falsi al giorno e quindi cosa abbiamo fatto con questi ingegneri informatici abbiamo creato la sala intercettazione col sistema materializzazione cosa vuol dire l'intercettazione in procura l'ascolto presso l'APG quindi l'APG non si doveva muovere dal suo ufficio non si muove dal suo ufficio e quindi abbiamo girato il codice di procedura penale ok un cablaggio a fibre ottiche cosa grandiosa dopodiché questi ingegneri che ci hanno costruito la società come 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 ci hanno come l'hanno recuperati questi miliardi che stiamo parlando in termini di lire gli ho dato lavoro gli ho detto voi costruite la sala io vi faccio intercettare e così hanno recuperato poi questa questa macchina e queste macchine poi le hanno fittate le fittano a tutti le procure d'Italia così è nata il sistema digitale di intercettazione in Italia che è quello che ora si usa si usa anche in America in Canada in Australia in Messico altre domande? parla parla che ti senti grida si 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 e qui mi domando se c'è o meno una volontà a livello internazionale di combattere o meno la droga quindi soprattutto mi riferisco agli Stati Uniti e se non sarebbe meglio cosa che io ovviamente non condivido la pratica frase liberalizzarla esatto io sono proprio contro e potevamo concludere in un convegno senza stata però siccome sono stata sempre convinta che non fosse questo il modo di risolvere però per non far lucrare la mafia visto che uno comunque si droga almeno ci guadagna lo Stato allora guarda sai perché è aumentata la produzione in Afghanistan è aumentata perché grazie alla guerra in Afghanistan cioè i talebani sostanzialmente attraverso con questa guerra ora sono diventati ricchissimi i talebani sono pieni di soldi proprio perché nella sostanza hanno rafforzato il loro potere sostanzialmente gli eserciti che sono lì è ovvio che queste cose non piace sentirli hanno un pezzettino del territorio hanno il fortino ogni tanto passano su qualche strada e purtroppo c'è una granata che fa saltare il fuoristrada blindato la jeep blindata tutta l'altra parte del territorio è libera i talebani hanno grandi estensioni del loro territorio per produrre la droga e c'è un surplus di produzione infatti i prezzi sono abbassati tantissimo dell'eroina ecco perché adesso c'è un ritorno al consumo di eroina in Europa perché costa veramente poco è scesa sotto i 40 euro 35 euro proprio i pezzi stracciati e arriva sempre dalle solite rotte e arriva in Europa sta avvenendo in Europa avviene attraverso la Russia la Russia e Romania avviene viene attraverso i Balcani ma grandi quantità stanno arrivando e ora l'eroina la si sta usando qualcuno di voi già lo sa e viene tirata come la cocaina non si bucano più il problema è che ci vuole una quantità maggiore per avere l'effetto stupefacente ma questo non è un problema perché il prezzo è stato abbassato guarda liberalizzarla allora intanto io sono di un'idea uno Stato si deve preoccupare della salute dei cittadini uno Stato non si può permettere di avere un popolo alle 10 di mattina intontito allora cosa voglio dire dice ma si trogano lo stesso cioè alle 10 di mattina c'è il pilota d'aereo che è già fatto c'è quello che guida il treno quello che guida l'autobus sono d'accordo con quello che dice però vedi intanto non tutti hanno la forza molti di voi qui se avessero due strisce di cocaina e nessuno li vedesse vorrebbero provare molti di voi proverebbero se invece non ce l'ho non la provo però il principio è che uno Stato non si può dire non può dire uno Stato di diritto noi liberalizziamo la droga perché così le mafie non si arricchiscono vorrebbe dire ammettere il fallimento di uno Stato allora io vi dico una volta in un convegno un uomo di governo molto importante che voi spesso vedete in televisione mi hanno detto siccome voi magistrati non siete stati in grado di sconfiggere le mafie la vendita della droga liberalizziamo la droga gli ho detto guardi perché non prova a darmi gli strumenti normativi a modificare il codice penale il codice penale l'ordinamento penitenziario e poi vediamo cosa riusciamo a fare riusciamo a fare è ovvio che se noi ci imbiottiamo fino a qualche anno fa c'era il patteggiamento in appello sai cos'è il patteggiamento in appello era un giochino bellino il pubblico mistero l'udienza con l'avvocato si mettevano d'accordo si partiva con danni a 24 25 anni si andava in appello e si arrivava a 5 6 anni di carcere ma manco svendite di fine stagione ma manco ma nemmeno alla standard in cambio il giudice non doveva scrivere la sentenza è ovvio se c'è un sistema penale processuale detentivo così come oggi in Italia cosa sono 7-8 anni di carcere a un capomachia condannato per 400 servizi nella prospettiva che lui uscendo dal carcere lui mette il caso in cui per assurdo per ipotesi lui potesse decidere di non far parte più le draghe dicendo ma non voglio più sapere niente di draghe ti avrebbe ucciso considerato un mollaccione ma tu pensi che lui che è l'uomo del monte lui che comanda ogni mattina e decide che deve rimanere vivo o morto tu pensi che rinuncia perché l'alternativa sarebbe fare al massimo il cavo parale forestale quindi è da ipocrite di continuare a pensare che è la pena tenere la regolazione del condannato così come è strutturato il sistema carcerario quindi noi dobbiamo creare un sistema penale tale che non sia conveniente delinquere finire di scimmiottare incominciare a parificare i 400 bis al 74 cioè partire con pena da 20 anni in su incominciare a togliere la patria potestà dei figli sui figli incominciare a creare i campi di lavoro ma seri non campi di lavoro nel senso come pensate voi nei film picchiare tortura assolutamente il detenuto deve stare sano deve essere curato se sta male perché se è malato il giudice sorveglianza lo manda a casa deve stare sano perché deve stare nei campi di lavoro a lavorare chiaro? allora quando tu crei un sistema non conveniente incominci a cambiare le regole del gioco sempre nel rispetto della costruzione della dignità umana mai umiliare nessuno il peggiore dei mafiosi io dico sempre quando vado gratuitamente a insegnare la scuola di polizia penitenziaria dico attenzione sottolinei gratuitamente poi vi spiego perché dico attenzione mai uno schiaffo in carcere mai uno schiaffo in caserma il detenuto non deve essere toccato la peggiore cosa per un detenuto è il rispetto e l'osservanza ortodossa delle regole è fondamentale il detenuto non deve avere alibi perché ci vuole un Fiat perché si trasformi in vittima quindi rispetto le regole ma regole regole tale che non siano convenienti ora mi veniva in mente mentre parlavamo del 406 bis sapete in Svizzera l'omologo del 406 bis qual è? è una pena che va da 1 a 5 anni quindi vi lascio immaginare altre domande? sì io volevo chiedere se è vera una cosa che vocifara cioè delle relazioni tra i notave e l'andrangheta questo non glielo so dire salve io le volevo fare una domanda c'è qualche mi sembra qualche anno fa ci fu una una mega inchiesta sui rapporti tra l'andrangheta i narcos messicani e c'è avendo un'intercettazione un video ricordo bene in cui due andranghitisti dicevano ah ma sai ieri ho perso qualche milione di euro perché non l'avevo sotterrato bene siamo rovinati di qua e di là e da lì mi è partito un ragionamento ma allora nel futuro dove può arrivare l'andrangheta nel senso cioè possono addirittura arrivare a comprare non so quote di giornali di tv perché alla fine uno pensa forse non non c'è più non c'è più limite a niente grazie sono due sono due cose diverse quella con i messicani e l'indagine solare che abbiamo fatto due anni fa quella è una bella indagine abbiamo sequestrato 64 tonnellate di cocaina e 46 milioni di dollari mentre quella a cui ti riferisci tu è l'indagine igres quella dice era un'intercettazione su una macchina c'era il figlio di Pannunzi Roberto uno dei più grossi broker dell'andrangheta mai esistiti che si muoveva mi diceva dottor io meno di 3.000 kg non mi muovo da 3.000 kg in su diceva all'altro avevamo 250 milioni 250 miliardi 7-8 miliardi hanno preso un'Italia e l'abbiamo dovuto buttare la cosa che mi ha impressionato quando ho sentito questa intercettazione era il tono come lo diceva è come se io ti dicessi poco fa ho perso un euro mentre camminavo qui nel cortile della Luisa la stessa cosa il stesso tono altre domande senza il problema un'altra ti parla veloce la prima se l'andrangheta aveva dei rapporti con mafia cinese mafia russa e quel mercato perché io ho sentito parlare di mercato sudamericano europeo ma non ho sentito parlare di Cina o Russia volevo sapere c'erano comunque rapporti e seconda cosa se mi fosse spiegare meglio come l'andrangheta si muove nel rispetto al gioco d'azzardo e come questo tipo di mercato può essere utile per il riciclaggio perché hanno ben capito come effettivamente si muove nel riciclare i soldi non ho capito questo meccanismo guarda i rapporti con la mafia cinese ci sono nel senso che l'andrangheta chiede la percentuale la mazzetta sui container che arrivano delle merci contraffatti in Italia nei riporti che controlla e in più la mafia cinese viene utilizzata dall'andrangheta nella gestione dei locali pubblici cioè molti locali pubblici gestiti dai cinesi in realtà sono prestanomi dell'andrangheta per quanto riguarda il gioco d'azzardo nell'andrangheta non è molto d'entrata nel gioco d'azzardo è più cosa nostra ma più ancora i camorristi nel gioco d'azzardo l'andrangheta è il leader è quasi monopolio dell'importazione di cocaina quindi nella droga e nelle opere pubbliche negli appalti tipo un momento terra trasporto inerti e soprattutto in Emilia Romagna in Lombardia e in Piemonte si ma ripeto sono settori di nicchia di queste cose le abbiamo viste in Lombardia le abbiamo viste in Liguria ma la cosa che mi interessava farvi capire è invece le cose i guadagni spaventosi nel traffico di droga e poi la facilità con la quale entra nel mondo degli appalti voi pensate ad esempio in provincia di Reggio Emilia immaginate Reggio Emilia una provincia tranquilla pensate che c'era un tizio che è partito dalla Calabria con due camion e oggi ne ha 600 in provincia di Reggio Emilia ad esempio ci sono 7000 appartamenti spitti è un'anomalia c'è un imprenditore normale cosa fa vende metà appartamenti sulla carta poi incomincia a costruire il palazzo e fin quando finisce il palazzo ha venduto tutti gli appartamenti se ci sono 7000 appartamenti finiti e non abitati c'è un'anomalia quello si chiama riciclaggio perché sono talmente tanti i soldi sono i prestanomi che costruiscono questi palazzi ma ancora non li ha comprati nessuno perché talmente tanti voi pensate che c'è una crisi in tutta Italia non ci sono soldi eppure uno studio due anni fa in Emilia Romagna i posti in provincia di Emilia i posti erano aumentati del 25% c'è qualcosa che non quadra abbiamo finito com'è? allora grazie a tutti grazie soprattutto al dottor Gratteri grazie a tutti grazie a tutti